ha scelto il grembo domanda che fine fa chi è stato abortito guida l'entità che da poco ha scelto il grembo nel quale reincarnarsi secondo le esigenze della propria evoluzione ha di fatto la possibilità qualora venga respinta di trovare un'altra matrice disposta ad accettarla non solo ma un'entità che non ha ancora iniziato un nuovo cammino una nuova esperienza materiale che potrà senz'altro fare altrove e nel momento che riterrà per lei più idoneo il debito karmico in tal caso è senz'altro tutto a carico di chi glielo nega di chi le nega l'opportunità di maturare nascere e vivere ma un conto è rigettare tale compito un altro conto è spegnere stroncare una vita di un essere che è avviata sul suo cammino di esperienze che dovrebbe giungere ad una meta prefissata vi porto un esempio esplicativo immaginate una strada contrassegnata dalla lettera a alla lettera z e immaginate un viaggiatore che ancora prima di mettervi si la trovi sbarrata cosa farà quel viaggiatore ricercherà un'altra strada che lo conduca comunque dove ha deciso di recarsi dove ha bisogno di recarsi vero immaginate invece che quel viaggiatore percorso più o meno faticosamente passo dopo passo una parte di quella strada la trovi sbarrata alla tappa contrassegnata dalla lettera l o p o s non potendo giungere alla fine quindi tutto il suo impegno tutta la sua fatica risulteranno inutili e sarà necessariamente costretto a ricercare e ricominciare da un'altra strada mi auguro di essere stata esauriente me lo auguro proprio e vi lascio tutto il mio amore e tutte le mie benedizioni